Si dice che Enrico Galliano, scrittore e poliedrico conduttore, inventore di format e contenitori social con i suoi oltre 100.000 followers e soprattutto insegnante di scuola media alla periferia di Pordenone, sia l'influencer che piace ai ragazzi ma anche ai genitori e ai nonni ed anche ai suoi colleghi. E sembra proprio così a giudicare dal pubblico che ha assistito a Lignano alla serata con l'autore e con il vino per presentare il libro Dormi stanotte sul mio cuore. Storia traumatica dell'amicizia fraterna tra Mia e Fede, un bimbo che i genitori di Mia avevano preso in affido da un orfanatrofio pugliese che però poi dopo un anno viene portato via dalla famiglia in maniera traumatica, tanto che Mia non riuscirà mai a superare questa situazione. Una storia che fa battere il cuore a tutte le età, capace di motivare i ragazzi alle prese con un anno davvero difficile per loro, ma anche gli insegnanti stessi, invitati sempre da Galliano ad ascoltarli e a credere in loro perché anche il giudizio degli altri può cambiare il percorso di ogni vita. Questo è un libro dedicato ai maestri, ai grandi maestri della nostra vita e al loro grande potere di cambiarle le nostre vite, di indirizzarle o verso la luce o a volte anche verso il buio. E poi è un libro sui pregiudizi, su quanto ciò che pensano gli altri di noi può cambiarci, può modificarci, può farci diventare a volte esattamente quello che gli altri credono e quindi renderci diversi da quello che siamo, ma soprattutto è un libro sulla speranza e sul coraggio di fare ciò che ci fa sentire vivi. Una serata conclusa come sempre con un Brindisi Dog, a base questa volta del più autoctono dei vini, il Friulano, in omaggio a uno scrittore che ha fatto parlare della sua terra e del suo piccolo comune di Pravis Domini in tutta Italia. Grazie.